Io sono Lorenzo Tassi, sono un docente del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche attuale. Vengo da una storia piuttosto vecchia, come tutti quelli della mia generazione probabilmente, ovvero appartenavamo, eravamo il corpo docente tipico del vecchio Dipartimento di Chimica, o di Scienze Chimiche poi. Questo gruppo di macchine è un gruppo di macchine cui sono particolarmente legato a titolo personale perché a partire da questa, sono macchine di fabbricazione tedesca, VTV, l'acronimo tedesco dovrebbe significare grosso modo che provengono da un laboratorio di fabbricazione di natura tedesca. Con questa macchinetta ci ho fatto un anno di tesi, ho lavorato un anno su questo oggetto e pochissimo altro e pertanto ho lasciato qui attaccato a queste spine, attaccato a questo visore, a questi dispositivi, una fetta del mio cuore, mettiamola così. Poi quando sono diventato ricercatore nel lontano 1982 ho in qualche modo passato la mano e sono diventato un utilizzatore costante e frequente di quest'altra macchina. Questo è un dipolmetro, questo è un conduttimetro. Questo è un conduttimetro con l'occhio magico, una tecnologia che assolutamente non si vede più perché non è neanche tanto pratica da utilizzare ma certamente ha un valore storico, diciamo così, di riferimento poiché proprio per il fatto che questi dispositivi non sono più presenti nelle macchine, nelle tecnologie che attualmente vengono utilizzate per la produzione di queste macchinette assolutamente non si trova. Avrebbe valore fondativo eventualmente anche poterlo far vedere agli studenti ancora che tutto sommato ora leggono i numeri, guarda caso, su un display elettronico fatto a LED e così via. Questo dipolmetro invece serve per misurare la costante dielettrica dei mezzi, mezzi solidi, pastosi e liquidi. Questa è una delle quattro celle in dotazione al dipolmetro per la misura della costante dielettrica di liquidi, materiali anche non necessariamente newtoniani, semipastosi, fluidi purché e come si può notare la tecnologia tedesca è eccellente, la cella è dorata all'interno. Tutti i componenti sono perfettamente mantenuti, ecco qua. Queste celle sono particolarmente preziose poiché adesso così non le costruiscono più, anche perché, un'altra ragione fondamentale è questa, la VTV non esiste più come tale. L'azienda ha una storia lunga, lunghissima alle spalle, adesso ha cambiato marchio e probabilmente è in mano a qualche altro costruttore, produttore. Ho caricato la cella, ho caricato la cella con un solvente opportuno, adesso inseriamo la cella nella sua locazione, eccolo qua. Però prima di fare questa cosa ho dimenticato di farne una importante che è questa, questa è la sua chiave originale. La cella dovrebbe non contenere bolle d'aria almeno nella parte di misura che la parte inferiore, pertanto andava dolcemente stretta con la chiave proprio per evitare che eventualmente qualche bolla d'aria potesse entrare e uscire perché avrebbe interrotto la consistenza della massa interna alla cella e una piccola discontinuità per effetto di una bolla d'aria avrebbe falsato la misura giustamente. Adesso che ho fatto l'operazione in ritardo a ritroso, eccolo qua, proviamo a vedere se riusciamo ad ottenere l'informazione, eccola qui. La dotazione del vecchio dipartimento, del vecchio istituto di chimica generale, per quella dotazione queste macchine sono arrivate in maniera quasi fortuita. E la storia che sta dietro queste macchine, adesso provo ad accennarla brevemente, non è una storia che ho vissuto io in prima persona evidentemente anche perché viene da lontano questa storia, è una storia di uomini e di guerra purtroppo e qui l'emozione comincia a farsi sentire perché chi ci ha raccontato queste storie, in qualche modo le ha vissute in prima persona. Dunque, sono arrivati a Modena negli anni 60, quando forse 55, ecco più o meno l'età, il momento in cui io sono nato, e sono arrivati a Modena per la forte partecipazione e per le forti motivazioni che il professor Peyronel nutriva nei confronti del vecchio istituto di chimica generale. Il professor Peyronel fu un capo partigiano, fece la resistenza sulle Alpi, Prealpi, Lombarde, perché lui era di Milano e fu fatto prigioniero. Gli ultimi sei mesi di guerra in realtà li trascorse in un campo di prigionia tedesco, non ricordo i luoghi purtroppo perché questa è storia che non è mia, e in quel campo di prigionia i tedeschi avevano organizzato un ospedale da campo con macchine e attrezzature e compresa la macchina per fare i raggi X ai feriti eventualmente o per curare feriti che si potevano eventualmente produrre tutti i giorni sistematicamente, come si può pensare bene rispetto a un campo di guerra, e questa macchina, ci dice il professor Peyronel, una grossa macchina raggi X, modello anteguerra addirittura, stiamo parlando degli anni 40-45 grosso modo, questa grossa macchina era montata su un carro tedesco che era in qualche modo mimetizzato, sempre e comunque operativo e pronto per gli spostamenti del caso. In questo campo di prigionia i tedeschi avevano allestito questo ospedale che doveva servire soprattutto a curare gli ufficiali che eventualmente si fossero feriti in campo, sul campo di guerra, sul campo di battaglia e questo carro era sempre pronto a partire per qualunque evenienza, ragione per cui lui prigioniero insieme ad altri commilitoni in quel campo, si accorse che insieme a quelle macchine per fare i raggi X in maniera quasi improvvisata, c'erano su quel carro molte altre attrezzature scientifiche e fra queste attrezzature, lui chimico già laureato, era già docente all'università di Milano, effettivamente aveva potuto notare, vedere con spirito di curiosità ovviamente, che c'erano questa macchina, il dipolmetro, questa macchina, il conduttimetro, eventualmente con le celle e la dotazione. Possiamo eventualmente cogliere l'evidenza sperimentale del fatto che il contenitore, la cassetta che contiene ancora le celle del dipolmetro è fatta di un cartoncino, probabilmente ma dei germani, dell'epoca, che ha proprio questa caratteristica, questo cartoncino ormai non lo si trova più, cartoncino pressato multistrato. Al di là di questo, che è un aspetto comunque così da ricordare ancora, torniamo al problema della guerra. Il professor Peronel si accorse di questo carro e qualche settimana prima della liberazione fu nel tentativo di estorcere al professor Peronel, che era un capo partigiano di una, le chiamavano le brigate, mi sembra di ricordare, piuttosto importante nell'ambito territoriale dove insisteva, al piedi delle Alpi, nel tentativo di estorcere il nome dei suoi commilitoni, degli altri referenti, eccetera, fu soggetto ad un tentativo di fucilazione simulata. Mi dicono che il professor Peronel aveva i capelli nero corvini da giovane e li ha avuti fino a quel momento in cui è stato messo a muro con la benda sugli occhi. In quel momento gli è partita una reazione strana e diventò albino, tant'è vero che quando ce lo trovammo in corso noi aveva questi occhi azzurro, azzurro splendido proprio e i capelli bianchi albino e questa caratteristica gli è rimasta e in qualche modo è stata una reazione fisiologica a quel tentativo di fucilazione simulata, perché poi non lo fucilarono, fu una minaccia piuttosto consistente davanti al protone di esecuzione. Dopo qualche settimana al massimo, ci disse il professore, arrivarono gli americani e i tedeschi nel tentativo di fuggire rapidamente in qualche modo fecero su quello che potevano e arrivati le armate di liberazione e in qualche modo il professor Peronel che aveva notato il camion, sapeva che il camion aveva sempre la chiave accesa, ovvero la chiave inserita sul cruscotto, sapeva che quel camion conteneva delle macchine, delle attrezzature che probabilmente gli avrebbero potuto servire per fare il mestiere della docenza di chimico già all'Università di Milano, lasciò partire tutti i suoi commilitoni perché in qualche modo era stato imprigionato insieme a un gruppo consistente di altri partigiani e saltò sul camion da solo, partì e nel momento in cui gli americani arrivarono e portarono via in qualche modo questi ex prigionieri ormai verso la liberazione, verso la salvezza, lui con questo camion mimetico, ben mimetizzato, partì per la Boscaglia, nascose il camion e poi si fece ritrovare e ovvio andarono immediatamente dopo qualche giorno a riprendere questo camion che conteneva queste attrezzature e queste attrezzature tutte sono arrivate, meno che il camion, sono arrivate a Modena negli anni 55, una decina d'anni dopo circa. Quando il professore eventualmente a fronte di disponibilità modesta dell'Università di Milano di ospitare due ordinari di chimica generale, lui e il professor Malatesta, in qualche modo l'Università espresse parere per Malatesta e il professor Peronell venne a Modena perché c'era la disponibilità di quella cattedra. La costante dielettrica serviva e serve eventualmente per determinare le caratteristiche di polarità dei sistemi che eventualmente vengono introdotti dentro la cella. Quale potesse essere l'uso che ne facevano i tedeschi si può solo immaginare, mettiamola così, nel senso che il professore non l'ha mai visto usare, ha visto usare la macchina per i raggi X che era montata su questo camion, molto versatile, ma senz'altro poteva servire questa macchina per la misura e la valutazione delle caratteristiche dei combustibili. Siccome i tedeschi l'ultima parte della guerra se la sono fatta soprattutto con la benzina che si producevano da loro, vabbè quando poi arrivavano nei paesi che erano quelli destinati all'occupazione probabilmente la benzina la trovavano anche per altre ragioni, ma per valutare eventualmente le caratteristiche dei combustibili da trazione probabilmente si affidavano a una macchinetta di questo tipo. Sono tutte ipotesi ragionevoli poiché sapendo qual è il mestiere che fa questo oggetto è difficile immaginarne uno diverso rispetto a questo. E d'altra parte in tempo di guerra si sa tutto quello che può essere utile per fare un certo mestiere, per fare un certo servizio viene generalmente utilizzato anche per farne qualcun altro. Il qualcun altro non riusciamo noi a immaginarcelo diverso. Il professore ci disse questa cosa, probabilmente anche lui pensava che potesse essere utile per valutare le caratteristiche dei combustibili da trazione, le benzine dell'epoca fondamentalmente, che fossero di sintesi fabbricate in tedesca col processo Fischer-Tropsel, che fossero eventualmente quelle che trovavano nel nostro paese per effetto della distribuzione capillare dei combustibili da trazione già in Italia, a quell'epoca nonostante la guerra questo probabilmente fu, questo probabilmente è. Poi io l'ho utilizzata per caratterizzare sistemi solvente, ma questa è la storia recente che forse non è più neanche tanto da museo, può essere di interesse comunque, serve eventualmente per valutare la polarità delle molecole che si mettono dentro la cella. Il conduttimetro è ovvio, serve viceversa, per valutare la conducibilità delle soluzioni e molto probabilmente siccome la sintesi Fischer-Tropsel per la produzione dei combustibili che Hitler in qualche modo riuscì attraverso i suoi scienziati che aveva costretto a lavorare in un certo modo, probabilmente si lavorava con catalizzatori metallici, anche questo probabilmente poteva essere uno strumento utile per valutare le caratteristiche compositive di quei brodi che venivano fuori dai reattori di quell'epoca. Non potendo mettere materiali metallici dentro alla camera di combustione di un motore 4 tempi, 2 tempi, 3 tempi eccetera, è ovvio che anche quei prodotti da combustione, motore interno dovevano essere in qualche modo monitorati. Queste macchine, queste attrezzature hanno valore, valore storico senz'altro, valore conoscitivo e quindi tutto sommato non c'è motivo di buttarle via, ecco anche se qualcuno non le usa più o le usa poco, pochissimo e probabilmente verranno utilizzate sempre meno, ma quello che testimoniano in realtà è quello che serve per i nuovi giovani.